Daphne? Lasagna o pasticcio? Cosa è il pasticcio? Ok, oggi facciamo un nuovo video e con me c'è Giacomo, per cui lo facciamo insieme. Perfetto. La prima domanda che faccio oggi a Giacomo è, secondo te si dice pasticcio o lasagna? Lasagna o pasticcio? Lasagna. Pasticcio. No, è pasticcio. Pasticcio, pasticcio. Pasticcio, lasagne. Ciao, tu dici pasticcio o lasagne? Lasagne. Lasagne. Pasticcio? No! Grande, Frank. Pasticcio o lasagne? Lasagne. Lasagne. Pasticcio. Lasagne. Lasagne. Pasticcio. Lasagne. Pasticcio o lasagne? Non è vero. No, pasticcio. Devo farti una domanda molto importante. Dimmi. Pasticcio o lasagna? Oddio, eh, pasticcio. Daphne? Yes. Lasagna o pasticcio? What is pasticcio? Pasticcio o... Pasta. 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 Pasticcio. Pasticcio o lasagne? Lasagna. Lasagna. Dov'è Sara? Sara, ho un quesito per te. E già so come mi risponderai in maniera sbagliata. Come si dice, pasticcio o lasagne? Allora, tecnicamente il termine sarebbe lasagna, ma quindi c'è il pasticcio. L'ha detto, l'ha detto, lasagna. Pasticcio. No! Bolognese io, lasagna. Bravo! Pasticcio. Mi piace che tu hai risposto che esistono sia il pasticcio che la lasagna. Certo, però la lasagna è una lasagna. Esatto. Lasagna, lasagna. Questo bolognese è lasagna. Bravo! Lasagna, ovviamente. Bravo, Linda. Beh, Checco, non te lo chiedo, ma che gesto che stai sbagliando. A pensare che si dica pasticcio, si dice lasagna. Ma mia nonna fa il pasticcio, però. Ma tua nonna sbaglia? Lasagna, palesemente. Lasagna. Lasagna. Lo chiedo pure a Sanzio, anche se non è importante la sua opinione, ma... È importante che sia buono. Bravo! 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 zealand человеч mood a sconto. Grazie a tutti.